qual è la scuola più grande del mondo sicuramente il collegio epitafio che copre l'intera superficie di un'isola e che è composta da innumerevoli stanze lunghissimi corridoi aule immense di cui non si riesce neppure a scorgere il soffitto tutti i ragazzi prima o poi ci vanno e tutti sognano di fuggire proprio come andy swift ed il suo amico muppa stanchi di dover vivere in un posto dove ti insegnano tutto quello che non vorresti imparare tra acque infestate da miti canquille e giganti professori che parlano in rima presidi pazzi viaggi in mongolfiera polletti dei libri che infestano le biblioteche e costituiscono cose con le ciclopedie questa è dunque la storia di una fuga continuamente tentata e della lunga lotta tra endi e chi vorrebbe impedirgli di fare domande un romanzo esilarante originale che segna è dovuto di un nuovo straordinario autore